E' di nuovo campagna elettorale. Il 3 e 4 ottobre prossimi saranno 180.000 i cittadini marchigiani chiamati alle urne per eleggere 28 nuovi sindaci di altrettanti comuni che cambieranno o confermeranno il loro primo cittadino. In provincia di Pesero Orbino saranno 7 i comuni chiamati a votare con la campagna elettorale che entra nella fase calda, visto che lo scorso weekend si è chiusa la possibilità di presentare liste di candidati a sindaco e relativi consigli comunali. Si voterà innanzitutto nel quarto comune più popoloso della provincia di Pesero Orbino, quello di Mondolfo dove l'attuale sindaco 32enne Nicola Barbieri concorre per il bis con la lista Fare Città sfidato Danteo Bonacorsi che con la lista futura ha raggruppato gran parte delle forze di centro-sinistra. Sfida intrigante a Fossombrone dove il sindaco Gabriele Bonci ha deciso di non ricandidarsi caldeggiando piuttosto la candidatura dell'attuale assessore Gloria May che dovrà vedersela con le agguerrite avanzate della lista dell'imprenditore Massimo Berloni e di quella di Fabio Londei, noto titolare di ristoranti nonché ex sindaco di Sant'Ippolito e segretario col diretti. Quarta concorrente in gara Elisa Cipriani di Rifondazione con uniti per Fossombrone. Si vota anche a Fermignano dove Delfina Betonica lancia il guanto di sfida all'attuale sindaco Emanuele Feduzzi mentre accoglie al Metauro si voterà con un anno d'anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista. La poltrona di sindaco lasciata anzitempo da Stefano Aguzzi divenuto assessore regionale sarà infatti ambita dalla lista Energia in Comune di Caglio Curina, ex presidente della comunità montana del Metauro e da Pietro Briganti di Insieme per Crescere. Lotta a due anche a Mondavio dove si ricandida l'attuale sindaco Mirko Zenobi per un futuro comune sfidato da Girolamo Martino con la lista Mondavio-Città Nuova. Il sesto e settimo comune in cui si vota non avrà partita elettorale se non quella con l'affluenza alle urne. È il caso di Gradara dove si ricandida l'attuale sindaco Filippo Gasperi ma che vede azzerata l'opposizione e si presenterà senza sfidanti. Idem a Mercatino Conca dove Omar Lavanna con la sua Mercatino 4.0 viaggia senza avversari verso il suo terzo mandato. Appuntamento dunque alle urne per domenica 3 e lunedì 4 ottobre per eleggere sindaco e consiglio comunale che resteranno in carica per i prossimi cinque anni. L'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre nel caso in cui nessun candidato sindaco raggiunga la maggioranza al primo turno.